Musica Bello ragazzi e bentornati sul mio canale Siamo qui oggi con questo nuovo video Pack opening alla ricerca di Ibra, Pogba, Naikolan, L'H7 Tots della Ligan Tots della Serie A ragazzi Io direi subito di andarli a cercare Poi vabbè ci sono i Yif Ma fan cagare quindi Puntiamo solo ai Tots E' da tanto che non trovo un Tots L'ultimo è stato check se non erro E poi vabbè ho vinto il torneo Hoot Nella Barclays E poi basta raga Quindi andiamo subito ad aprire il primo pacchetto di oggi Guardo di qua perché è tutto di qua Attenzione vediamo il primo pacchetto Se ci dà qualcosa Vediamo subito Si vede subito se il buongiorno si vede dal mattino Si un turco Go null Allora secondo pacchetto Iniziamo con i riti scaramatici Perché ne abbiamo bisogno Perché Siamo sfortunati ultimamente Vediamo un po' Questo lo skipiamo al 3 1 2 3 Nah Boom Morata Perché non l'hanno fatto Tots Morata 3-2-1 3-2-1 3-1 Skip Bedel Perché sto trovando giocatori della Serie A Che non sono Tots Ma dai Possibile Guardiamo l'animazione Guardiamocela Attenta a me Anzi chiudiamo gli occhi Chiudiamo gli occhi Sbricciamo Sto sbirciando raga No no Non sbirciamo più Sbricciamo Vela Vela Ete mai E Isai E Fernandez 3-3 della Serie A Ma dove sono i Tots Con la scarpa in mano Dai ragazzi Potere della Lacoste Scarpa Ti prego Ah ma che effetto Dai Ti prego Almeno un Tots Ma perché Non mi fa fare un Tots Coulibaly Basta L'ho chiamato Lo voglio Coulibaly E tu Ancora Basta con te tu E rincon Ma siamo rincoglioniti Ma sempre Giocatori della Serie A E sempre tu E neanche un Tots Dai 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 Tots 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 Oh Ma vaffanculo Va Quando era Tots Non me l'ha fatto trovare Me lo fa trovare oggi Chris Ma va a cagare Va Che sbagli pure i rigori Decisivi Ma dai Ma come si fa Dio santo Infatti Dio santo Evochiamo Dio santo Dopo magari Troviamo pure il talisman Ok ragazzi Amici Amiche Ragazzi siamo tornati Altro Diciamo Proseguimento Del pack opening Dobbiamo Assolutamente Trovare questi Tots Che è importante Tanto pacchetti Pacchetti promo 30.000 30.000 Perché sono due pacchetti Vediamo un po' Se troviamo un Tots Sta già prendo Griezmann Ancora Trovo sempre Griezmann Quando era Tots No Adesso lo trovo sempre Incredibile Incredibile È pazzesco Allora Altro pacchetto Da 15k Tu mi vuoi far trovare Un Tots Oh no Devo pagare oro Cosa devo fare Barcellona Busquets E anche lui Era Tots Se non erro Ma è pazzesco Stiamo trovando Tutti quelli buoni Che erano Tots Ma io ho un pacchetto Da 25.000 Lo voglio aprire Anzi Cos'è 30.000 Facciamo così Un pacchetto da 30.000 Dai ragazzi Sarà Tots Andiamo qua Bam Oh Tots Cosa ti fa veramente Allora C'è di Tots Tots Finalmente ZBA Ma chi è 18k C'è neanche Le emozioni Di trovare un Tots Solo Serie A Oddio Voglio Pogba Tots Bonucci Padoin Padoin Tutti insieme Padoin Ligan Vediamo un po' Eh non ci sono pacchetti Ma come non ci sono pacchetti Stiamo scherzando Non ci sono pacchetti Voglio Ibra Silva Ok Quando i Tots Due Tots Quanto vale Questo Silva Un altro Tots Attenzione Altri 17.000 Eh vabbè Ma siamo proprio fortunati 750 Ultimo Pack di qua Vediamo un po' Lai Ho io un po' Prego Vibra Oh C'è una fila No David Luiz Oddio David Luiz Pensavo C'è una fila David Luiz Oddio Quanto vale David Luiz 100.000 Se ce l'abbiamo fatta David Luiz Pensavo forse T'è così L'inizio David Luiz No Pensavo forse T'è così Davide Luiz Oh ve lo faccio vedere Che è mio Perché sennò Poi mi rompete le palle Primo proprietario Terzo Tots Della Ligan Terzo Tots Della Ligan David Luiz Almeno lui Cazzo Dai Scartiamo tutto Dopo il terzo Tots Ci vuole anche il quarto Tots Attenzione Seriano Close Sono close che capitano Tatino Sono close che capitano Non puoi trovare sempre il Tots Giustamente Giustamente Allora 300 Eh no Però Attenzione Apriamo questi Eh no Mi sa che ho sbagliato lo stesso Perché Vabbè Dettagli Però Tre Tots Tre Tots Tre Tots Finalmente 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 Abbiamo trovato tre Tots Ragazzi Tre fottuti Tots Poi mi sono rimasti 50 Che fa points Da parte Diego Milito E poi niente da fare Però Ragazzi Finalmente Abbiamo trovato Tre fottuti Tots Eccoli qua Bam Bam E bam Ragazzi Comunque ragazzi Spero che questo pack opening Vi sia piaciuto Finalmente Ho trovato Tre Fottuti Tots Ce l'abbiamo fatta Non uno Non due Ma tre Tots Finalmente Spero che questo pack opening Vi sia piaciuto Spaccate i like Iscrivetevi E ditevi qui sotto Che avete trovato voi Guardatevi tutto E ci vediamo al prossimo video Bella Ciao a presto 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 Ciao a presto